Vertenza acqua, un bicchiere, mezzo vuoto per la CGL Rieti-Roma Est-Vallaniene e la CISL Roma Capitale Rieti. I responsabili della CGL della CISL, Walter Filippi e Paolo Bianchetti, parlano di una risposta debole alle richieste forti dei cittadini del territorio rietino. Ed ora il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in qualità di rappresentante del lato 2, impugna al TAR la delibera stessa che assegna ai cittadini della provincia di Rieti 36 milioni per il passato e 6 più 2 milioni per gli anni successivi come ristoro per l'utilizzo delle sorgenti le capore peschiera. Risorse che avrebbero consentito quelle opere di ammodernamento che sono necessarie per rendere funzionale la gestione degli impianti della società pubblica Acqua Pubblica Sabina. E intanto il 5 agosto sarà il giorno della grande protesta a cui sono stati invitati a partecipare dal presidente della provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, e dal sindaco del capoluogo Sabino, Simone Petrangeli, i sindaci della provincia di Rieti e gli otto della provincia di Roma che fanno parte del lato 3 Lazio. Una manifestazione giusta è intervenuto l'onorevole Melilli contro il ricorso presentato al TAR dal lato 2 contro la delibera regionale che sancisce il riconoscimento del diritto del territorio reatino al ristoro economico per l'interferenza d'ambito.